Bella a tutti ragazzi, qua Orgasmi che sono qui a portarvi un nuovo squad builder veramente devastante è una squadra ibrida formata da giocatori oro e argento più oro che argento ci sono 3 giocatori if e in tutto 4 nazioni diverse e 5 campionati diversi quindi andiamo subito a vederla, ragazzi fatela, ve lo anticipo, provatela perché è veramente devastante è una squadra alternativa quindi con giocatori che praticamente quasi nessuno utilizza ma veramente invincibile quindi cominciamo subito dal portiere e sto parlando di... no Leno, non è Leno, sbagliato piccolo fail di questo episodio, Ter Stegen, più o meno si somigliano Ter Stegen, davvero un ottimo portiere che mi ha fatto una sola cagata in 4 partite nel senso un retropassaggio, lui stava uscendo, cioè stava uscendo con triangolo in area non l'ha presa come un deficiente e si è fatto una sorta di tunnel da solo e l'avversario ha potuto segnare ma niente di che perché comunque sto vincendo mi pare 3-0 e devo dire che ha degli ottimi riflessi, fa veramente delle parate incredibili uno contro uno con l'attaccante che sta per fare gol quindi è davvero un gran portiere poi ho utilizzato come terzino destro un argento che è... non è di questa pagina Brozinski che è davvero un buon giocatore perché è molto veloce quindi fa tanti recuperi difensivi mi ha fatto un assist in 4 partite che ha giocato e comunque non ha delle statistiche impressionanti però comunque sia in game rende davvero molto bene come del resto è molto molto buono anche il suo compagno di reparto che penso sia di qua, eccolo qui, Bungert che fa triple intesa quindi con Brozinski perché sono entrambi del Mainz, entrambi tedeschi buona velocità, ottimo valore di difesa per un argento peccato che non ha un valore di fisico molto alto però lui essendo tipo alto 1,88 di testa per esempio le prende tutte e quindi mi è piaciuto davvero molto molti prezzi come vedete sono risalenti a qualche mese fa perché vabbè li avevo presi precedentemente altro centrale argento, Angheleri che è questo argentino veramente fortissimo che non ha una velocità altissima, comunque 71 è discreta però ha un workout perfetto e soprattutto un rapporto difesa fisico veramente impressionante, 79 di fisico è altissimo non passa mai nessuno con lui in difesa mi ha fatto tra l'altro un autogol però era proprio involontario, un tiro dell'avversario che ha rimpallato lui e poi è andato in porta però ragazzi provate anche questo giocatore perché è veramente molto molto buono poi come terzino sinistro ho usato un oro e sto parlando di, è in questa pagina, si eccolo qui Antunes, Antunes, comunque questo giocatore è penso ex Roma del Malaga, molto buono con delle statistiche veramente buone per essere un 76 con una discreta velocità, anzi un'ottima velocità direi un ottimo passaggio, anche un discreto tiro e buoni valori di difesa fisico poi ci spostiamo a centro campo dove troviamo come cc di destra dovrebbe essere di qua Enzo Perez che tra l'altro è la sua versione del Benfica quindi non ha penso ricevuto un upgrade comunque mi ha fatto due assist e un gol in quattro partite quindi tanta roba per Perez ottimo giocatore, a versione upgrade ovviamente anche più forte però a me mi serviva quello del Benfica poi come centrocampista centrale di sinistra Argento ho utilizzato altra pagina, devo cercarlo Peglierano che non ha una grandissima velocità e nemmeno un ottimo dribbling però dalla sua parte ha tutte le altre statistiche molto buone soprattutto difesa e soprattutto fisico e poi ha questo worker normale alto quindi è sempre davanti alla difesa comunque a difendere l'ho pagato tanto era tra l'altro l'unico giocatore perché lui ha una versione transfer ed è l'unico giocatore del penso sia del Tijuana quella squadra lì comunque cercatelo magari lo trovate anche voi poi sono finiti gli Argento passiamo all'esterno di destra che è oro ed è un giocatore IF cioè Salvio che non mi aspettavo fosse così buono io avevo provato la sua versione NIF e non mi era piaciuta affatto invece questa versione IF devo dire che mi è piaciuta con un gol e un assist in 4 partite quindi decisamente buono per un esterno pagato quasi 14.000 credit comunque i prezzi sono abbastanza bassi con i price range quindi devo dire che è un ottimo giocatore molto completo ha anche 4 stelle abilità poi esterno di sinistra ho utilizzato danni altro ottimo giocatore con delle ottime statistiche che mi ha fatto un solo gol vabbè in 4 partite però è veramente fortissimo tra l'altro il gol che mi ha fatto da tipo 50 metri che c'era il portiere che aveva battuto il calcio d'angolo lui in contropiede ha tirato una sborda da centro campo e ha fatto gol comunque sia un giocatore che conoscono tutti veramente molto forte con delle ottime statistiche ma andiamo ragazzi alla perla di questa squadra che non me lo sarei mai aspettato o forse un pochino si stiamo parlando di a rango if come potete vedere questo è un giocatore no non come potete vedere però ve lo garantisco questo è un giocatore incredibile provatelo 10.000 crediti non costa niente è vero che è molto lento ma molto lento però quando tira o quando fa gli assist ragazzi sono cazzi amari per tutti per tutti gli avversari mi ha fatto 4 gol e 3 assist in 4 partite contando che tra l'altro ci sono stati 4 no 3 giocatori che mi hanno quittato dopo che gli avevo fatto 3 gol perché questa è una squadra che segna tantissimo e a rango è sempre in ogni gol lui il suo zampino c'è sempre o fa partire l'azione o fa l'assist o fa il gol ragazzi provate questo giocatore ha un long shot da paura la sua versione NIF è esterno se non sbaglio quindi non si può utilizzare con questa velocità però questa versione IF in mezzo al campo ragazzi veramente provatelo poi mi direte mentre l'ultimo giocatore di questa squadra è un altro venezolano cioè Rondon dovrebbe essere la versione SIF Baratif perché lui ha ricevuto se non sbaglio una versione IF un man of the match e questa versione qui che è veramente devastante 5 gole 3 assist in 4 partite è una media favolosa contando che è un giocatore che segna sempre almeno un gol a partita e fa anche assist che è una cosa fondamentale per un attaccante che gioca in attacco a 1 ragazzi ha un tiro una finalizzazione pazzesca una potenza di tiro della madonna un colpo di testa formidabile cioè i colpi di testa non sono forti in questo gioco ma con Rondon le prende tutte di testa e fa sempre gol quindi ragazzi provate questa squadra ve lo dico col cuore veramente questa squadra è fortissima sempre per non concentrarsi sempre sulle stesse squadre con i giocatori super veloci in attacco ma ben si utilizziamo questi giocatori alternativi che veramente possono darci grandi soddisfazioni un esempio su tutti è a rango ragazzi come sempre vi invito a lasciare un bel like 300 mi piace uscirà un nuovo video spero che questa squadra vi sia piaciuta fatemelo sapere nei commenti e fatemi sapere nei commenti quali altre squadre volete in futuro con quali giocatori eccetera eccetera iscrivetevi al canale pagina facebook twitter instagram tutti i link come sempre li trovate in descrizione adesso vi lascio le clip ci vediamo al prossimo video bella raga ciao Grazie a tutti Grazie a tutti